Allora Martina, un tema molto ricorrente per il quale l'attuale sindaco di Roma si sta battendo è quello dei diritti degli omosessuali. Quello che volevamo sapere da te è cosa ne pensi sull'argomento, quindi diritti dei gay e omosessuali in generale? Ma sostanzialmente quello che io ho sempre detto, ho ripetuto anche nei miei video eccetera, è che fondamentalmente i gay come tutte le persone malate e vantaggiate della società eccetera comunque devono essere compresi e accolti perché comunque non è colpa loro, cioè loro non possono decidere loro di essere così, ce ne nascono come malati, quindi un procio è come un down? Beh ce ne nasce, non so se ora i down ci nascono, penso ci nascono, ci possono anche diventare però facciamo che la maggior parte ci nascono, vabbè ci nascono come quelli che ci nascono non ci possono fare niente, alcuni ci nascono, alcuni no, vabbè comunque c'è un sacco di amici gay anche perché del solito comunque la cosa bella dei gay è che appunto sanno di solito del buon gusto sono ricchi, si sanno vestire eccetera eccetera, poi condividiamo l'amore per lo stesso colore che è rosa, che è il mio colore preferito, ah gli omosessuali piace il rosa? Beh del solito sì, quindi diciamo che secondo me devono essere quindi capiti perché non è colpa loro, anzi sono svantaggiati Grazie mille Grazie mille Grazie mille